Altro porcino gigantesco, è statino, guardate qua, lo si vede, sto cercando di aprirgli un po' la foglia, all'incirca sarà 6-7 etti, guarda che bellezza! Mi sto trovando sopra, nel boschetto, sopra, fra il sentiero della strada normale dei tronchi e il viottolo di sopra, quasi in alto, ora segnerò il posto con le piante.